Loseo. Vai, vai, forse che devo girare l'oseo. Piano, 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 piano. Vedete proprio sotto il tuo ombre? Lo vedete? In ombre. Ma no? Sì, adesso lo vedo. E che cos'è? Un uccello misterioso. E' un'oca. Ma che oca? E' un'oca. Ma va. Sì, sì. E' un'oca. Una semplice oca? Sì. E' una radianza? Sì. Strammaciata, diremo. Sì, sì, sì. E' un'oca. Ma avvicinatela di più. E' un osea, non è un osea? Un occo. Un occo. Oh no, è un anastra. Ma guarda che bello. Un anastra.